allegri no che diamine che disastro apocalittico oggi è luca e non so non so che dirti ragazzi grazie mille giorgio non si capisce un cazzo non si capisce un cazzo cristo nulla se sta a capire quello che stai dicendo sono contento per murinio guarda per murinio secondo c'è un bellissimo cappotto abbiamo il cappotto uguale io murinio a molto stile murinio è un fenomeno di bala palla lui di bala cambio gioco che nel terzo del ciglio che mamma mia chiesa l'unico giocatore decente di questa squadra è l'unico neanche di bala chiesa chiesa punta salta sterza di bala sei solo di bala ha segnato la juventus bel gol di polo di bala beh cazzo perché però in questa partita un minimo sembra avere un gioco ma c'è rispetto al milan rispetto al milan sembra un minimo avere un gioco l'ha detto nel primo tempo nel primo tempo l'ha detto nel primo tempo e l'ha detto è finito ti sento sir stavo leggendo quello che ha scritto mastro scuso artelli che fanno impazzire però te le metti e come dire non mi piace quella moto però compri quella moto che non ti piace un contro 45 13 ci saranno dimostravo io mostro quasi presente a posto io sto a conto io sto a 46 e 30 ma serio ma non è vero io sto a 45 e 22 l'importante che andare lo vero locatelli via di bala via con usati via il trattore con usati che non servono grande con usati il trattore grande viare di inizio per quanto mette scrive luca fatti le unghie con l'immagine del zoom di cristiano ronaldo è un'idea può portarci 30 137 video il giocatore più forte no vediamo atteggiare la roma provo a uscire molto bene pellegrini palla mikhitaria mikhitaria può tirare no si sente un cazzo avevo capito che chiamata sfumare via si fa tutto il tatuaggio sul petto con la faccia di freddo ma ha fatto autogol che cazzo è successo è stata deviata la palla diventosi che se perde questi si comincia a fa brutta eh no si l'hai detto quando abbiamo fatto il primo gol e ce l'hanno pareggiato chiudi quella fogna ma non l'ho detto prima ma che cazzo stai di inventa storie inventa storie di merda ma non l'ho detta quella cosa all'inizio niente curato due volte contropiede roma contropiede roma con una fede a giannaz felix 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 si fa recuperare felix felix ancora fa non è fallo fallo si fallo fallo e giallo a delix secondo me non c'era tanto questo fallo si marco ho letto che hai commentato si route Luca se non era fallo a me sembrava abbastanza regolare non lo so in velocità allora siamo passati da un primo tempo dove non fischiava mai non cacciava un cartellino un secondo tempo che ha fatto due falli a Pietro Dugiani ah metti il braccio metti il braccio ah ok si 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 e Luca è qui la differenza tra i giocatori più forti della storia Lorenzo Pellegrini e Ronaldo che lui si attirà le punizioni e gol guarda e gol molto freddabile way true mate cancello Arnold bella sta Pellegrini parte lo stesso a te l'ho detto a te l'ho detto Loretto sei magnifico Loretto sei magnifico Loretto sei magnifico il mio capitano il mio capitano il mio capitano io voglio la clip di lui che dice a differenza di Cristiano la differenza la punizione voglio che dico questo è gol e poi metti la clip del gol Marco montatore signori c'è poco da dire quando uno ti tira una punizione così perfetta così bella così completa così decisiva c'è 3 a 1 Roma Juventus che va in balia a Roma basta uno sbadiglio butta la fuori allora io ti posso dire se la pareggiate o la perdete Davide è grave io ti fo Lazio quel po' nel momento l'ha detto l'ha detto se flipate perché qua non puoi se se la Roma pareggia o perde da domani Davide guarderà le partite della Lazio e non della Roma ok ma è buon partito lo vuoi fare attenzione per il fenomeno bello bello Locatelli che non è solamente un figo con quei ricciolini porca troia prendi quel pallone coglione coglione svegliamoci cazzo chi è che ha fatto il cross svegliamoci Murata ha fatto il cross Murata ha fatto una giocata dal fenomeno non si sa come bravo bravo McKennie non serve un cazzo di nulla McKennie se io ti vedo per strada io ti tiro sotto quadrado quadrado qualcuno va solita finta di quadrado basta fai sempre Colocatelli cosa fai cosa fai cos'è bella bella cos'è no ma ma fuorigioco fuorigioco era impossibile era impossibile era impossibile era impossibile fuorigioco davide fuorigioco davide fuorigioco davide ma sempre via è una cosa incredibile ma perché devi fare queste scenate davide fuorigioco ma fuorigioco di chi di Murata dici fuorigioco di quadrado non ho capito non ho capito Liverpool e Tottenham sono passati in svantaggio e poi hanno recuperato sta a controllarci e Calvar si si è fuorigioco fuorigioco tranquillo ma per me è più fuorigioco di Murata che di che di quadrado sai no no è gollo è gollo 3 a 3 gollo cazzo fammi vedere aspetta questa è la testa questa è la testa della Juve cazzo ha segnato quella merda di Kuluseski quel pippone di Kuluseski ha segnato quanto facciamo cagare per non segnare Kuluseski cazzo e adesso la vinciamo vaffanculo romanisti bastard attenzione attenzione è partito da Juve ha segnato anche Kuluseski vola Kulu vola cazzo ha segnato anche Kuluseski cazzo Kulu perde palla perché ha un bidone ma non importa ha fatto gol oggi non posso criticarlo dopo lì c'è stato pure di Kuluseski che culo Kuluseski dai sta facendo una partita palla per De Scilio palla per De Scilio De Scilio De Scilio De Scilio De Scilio non ci credo non ci credo 4 a 3 4 a 3 De Scilio De Scilio che cosa sta succedendo che cosa sta succedendo non è possibile io non ci credo che cosa sta succedendo da 3 a 1 a 3 a 4 questa partita non è possibile non ci credo De Scilio De Scilio Murillo Zucca 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 De Scilio De Scilio De Scilio De Scilio Tieni questa mano dai fallo rientrare dai ma non so io che l'ho fatto uscire Efra è uscito lui lui non sta neanche nel backstage dai ragazzi non ci posso credere era una rimonta assurda ma puoi pigliare rigore così madonna c'è Cavara attenzione questo rigore rigore si si è rigore rigore calci rigore per la Roma adesso se non rientra per il calci rigore è finita è rientrato rosto perde lì si perchè doppia munizione no non è possibile sta roba dai Juve in 10 cioè pensa tu ha ribaltato la partita in 10 minuti 10-15 minuti dai no guarda lascia perde guarda da 3 a 1 a 3 a 4 e poi pigliamo un rigore così ma guarda ma lascia perde no no ma Pellegrini sul dischetto è già gol è già gol guarda no 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 godo 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 tocchia pellegrini tocchia pellegrini tocchia pellegrini godo godo